il pallonetto altra penna meraviglioso giocatore se cerchiamo il numero uno del mondo è meglio andare a dare perché c'è un fenomeno che meraviglia un pittore parte in posizione regolare controlla interno destro a pallonetto un'altra gemma un altro gol e fanno 206 206 con tanti saluti a chi gli faceva fare il terzino avanzato che spettaccio questo è un giocatore meraviglioso